Ciao, sono uno dei fondatori di Toolmeet. Toolmeet è una toolbar per Firefox che permette di interagire real-time con altri navigatori durante la sessione su internet. Che cosa si fa quando si interagisce con altri navigatori? Puoi chattare con loro, trovare le persone che hanno i tuoi stessi interessi e trovare visitatori che stanno visitando il tuo stesso sito in quel momento. Senti, una cosa mi interessava molto discutere con te. Tu vieni da altre esperienze, altre start-up che sono nate, che sono finite, che poi si sono riprese. Mi dicevi che hai cambiato approccio nella costruzione di un nuovo business. Che esperienza hai, che insegnamento ne porti e cosa stai facendo adesso? Credo che una cosa che è estremamente importante anche per creare dei progetti di grande successo è di lavorare partendo dal garage, senza costruire dei grandi business plan o fare grandi ricerche fondi, ma lavorare insieme a dei tecnici, costruendo dei rapporti informali che poi portano alla realizzazione di un progetto, che può essere in beta o addirittura anche più lanciato sul mercato, che poi in una prima vita in realtà serve per studiare come funziona, come le metriche possono dare risultati e successivamente poi in realtà portarlo dai fondi di investimento oppure creare delle partnership industriali. Questo è un approccio che secondo me funziona molto bene, c'è una ripartizione dell'equity abbastanza sociale, quindi l'azienda viene divisa per il numero delle persone che partecipano e crea rapporti di lavoro molto buoni e anche potrebbe essere una vera alternativa a quella di far partire un'azienda con i classici meccanismi di finanziamento canonici. L'ultima domanda, tu sei da anni sul campo che ti deve fare, hai visto le varie esperienze, noti un cambiamento nel contesto italiano, una maggiore ricettività e maggiori chance di costruire del business? Allora, secondo me a livello di start-up sì, c'è un aumento del numero dei progetti che stanno nascendo in questo momento, molti di questi progetti in realtà non hanno una struttura dietro imprenditoriale e quindi questo è il primo problema, nel senso che spesso e volentieri sono i tecnici che mettono in moto queste iniziative, ma non dobbiamo dimenticare che una start-up di successo ha dentro altre competenze, quindi ci vogliono sia le persone di marketing che comunque le persone di business development e questo è quello che più o meno faccio io quando entro in un team, di solito io ho sempre soci tecnici al quale do degli apporti invece di valore di diverso livello. Per quanto riguarda invece la logica della scalabilità delle aziende, purtroppo è sempre difficile, nel senso che la cosa più complessa di portare un'azienda a successo è quella di costruire dei rapporti con dei partner industriali che ti diano accesso a un grande bacino di utenza senza spendere milioni di euro in marketing e questo è un problema molto grave in Italia perché i grandi leader diciamo fanno un po' fatica a aprirsi a progetti nuovi. Una soluzione che ho in questo momento ipotizzato è quella di creare dei rapporti iniziali di partnership con una strategia di acquisto da parte del partner industriale di equity della nuova start-up se da esiti positivi. Questo fa sì che a costo zero il partner industriale riesca in un qualche modo a sperimentare come decide lui, in quali termini decide lui, creare le prime metriche e successivamente se vuole iniziare a comprare pezzi di azienda. In questo caso il team tecnico è felice perché continua a fare il suo lavoro stipendiato e continua a essere, gli azionisti compresi loro stessi iniziano ad avere un progetto che vale sempre di più e i numeri del sito internet migliorano perché senza soldi di marketing in realtà stiamo creando un grande valore. Grazie. Grazie a voi.